Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Innanzitutto voglio subito ringraziarvi per aver aperto questo video perché nel caso lo avete fatto, mi sa vuol dire che avete passato un po' di tempo a scrollare nella home page di youtube e non sapevate che video guardare e avete aperto questo, quindi grazie grazie grazie, oggi sono qua per fare un video ASMR ovviamente, ASMR e appunto vorrei riuscire a farvi rilassare, non dico addormentare perché è un po' più difficile ma magari riesco anche in quello, quindi mi raccomando per un'esperienza migliore mettere cuffie o auricolari, perfetto, quindi mettiti anche in un posto comodo come il letto, il divano, una poltrona, non lo so no. Ok, 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 ok quindi sono anche qua per passare un po' di tempo con te queste settimane fa veramente caldo quindi registrare in una stanza tutto chiuso è un forno però piano piano ce la facciamo poi devo dire anche che oggi che sto registrando ho un attimino cambiato orario quindi è un po' una sperimentazione ok 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 anzi no, la metto qua e quindi, non lo so, mi piacerebbe anche chiacchierare un po' con voi intanto quindi se avete qualcosa da raccontar se avete qualche progetto futuro oppure anche semplicemente come state passando le vacanze se le avete già fatte, se le state facendo, se le dovete ancora fare perché questo video, se non sbaglio, uscirà verso metà parra fine agosto quindi ormai le vacanze, parlando per uno studente, sono quasi finite però c'è magari chi ha ancora qualcosa da fare quindi se le faccio ok, non mi piace tanto sto trigger io ho programmi futuri, in realtà non è che ne abbia assurdi diciamo che vorrei provare a trovare un lavoretto da fare a settembre vorrei comprare una nuova telecamera per fare dei video di migliore qualità e anche per questo io vi chiedo aiuto nel senso se, non dico siete esperti ma conoscete qualcosa aiutatemi perché io non ne so proprio nulla quindi questo così poi magari prenderei anche forse un altro microfono prima o poi poi non so quando più poi che prima quando mi piace qui 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 intanto però posso chiedervi come avete passato questo periodo in generale cosa avete fatto, chi per esempio è stato in vacanza già e voglio di raccontare io i commenti li leggo sempre tutti se me ne perdo qualcuno è perché youtube non mi manda notifica e non li vedo se ho accostato qui ci ho accanto qui bene facendo tutto in modo perfetto. Ah, che poi non so se lo avete notato, ma sto cercando piano piano di allargare l'inquadratura nei miei video, perché ho notato che se zoom troppo la qualità diminuisce e poi non mi piace neanche più tanto, una volta adoravo i video tipo super zoomati, invece adesso preferisco un po' più ampia la visuale, che si vede anche ok, ma io tutto Queste mi piacerebbe tanto. Posso anche passartele qua sugli occhi. Ecco una cosa che vorrei un sacco nella nuova telecamera sarebbe il mini specchietto girevole che ti fa vedere cosa stai registrando perché io devo guardare il riflesso che la telecamera fa sulla finestra per capire se sto facendo le cose dentro l'inquadratura. Così. 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 Io le adoro. Non c'è nulla da fare. Non c'è nulla da fare. Tempo fa andavano un sacco di moda il suono con questa boccetta qua. Io mi ricordo lo adoravo. Adesso invece si sente molto di meno. Non c'è nulla. Grazie a tutti Ok, adesso voglio prendere i tuoi pensieri E senza fare casino, provare a buttarli via E questo è Ecco, io quindi credo sia giunto il momento di dire Ora tocca a te Iscriviti al canale se sei nuovo Per entrare a far parte di questa community Qua su YouTube La OOPS community E l'iscrizione è completamente gratuita e ti serve per fare in modo che questa piattaforma ti invia una notifica quando pubblico un nuovo video tutte le settimane Lascia poi un like se il video ti è piaciuto Io devo dire Mi è sembrato proprio di starti vicino o vicina E lascia anche un bel commentino se hai un po' di tempo Il video di oggi finisce qua Se però tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio Qua il mio video di oggi è piaciuto un po' di tempo a me io ti mando un bel bacio e buonanotte 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 Buonanotte